Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Mythici Pills by Magists of Lotus. Oggi un po' di lore e runi, come al solito. Allora oggi vediamo i Mannari. I Mannari interazione con le carte che fanno girare face down le carte, come per esempio l'Ixidron. Allora, i Mannari dal punto di vista da lore ce n'è tantissimo. Ci sono sempre stati da Magica, anche dagli albori su Dominaria, però in poche carte, non li abbiamo mai calcolati più di tanto. Ci sono invece esplorati molto da quando ovviamente, come ben saprete, sono stati introdotti su Innistrad. Però non sono tutti uguali. Ci sono vari branchi, vari modi di essere Mannari, insomma, tanti tipi. Ne esploriamo principalmente due. Allora, i Walfir, che sono quasi estinti, perché erano Mannari che si sono pentiti delle loro azioni e Avastina purificato, rendendoli in forma solo lupo, ma con razzuccine umano, unendo i due aspetti, insomma. Poi però Avastin si è corrotta e gran parte di loro sono impazziti. Però ce ne sono ancora un paio che sono rimasti buoni. Poi per esempio c'è il Dire Pack, che è quello nuovo introdotto dalla nuova espansione su Innistrad. Il Dire Pack sono persone che anche in forma umana sono più grossi e hanno l'aspetto cattivo. Così proprio si capisce che sono i cattivi, non potete sbagliarvi. E inoltre, cosa si trasformano in Mannari, sono ancora più grossi e più forti e più veloci rispetto agli altri. Quindi, insomma, sono cattivi allo stato estremo. Dal punto di vista ruling cosa possiamo dire? Queste carte non si girano. Perché? Perché non hanno una facedown. Hanno due facce e quindi il gioco non può performare quell'azione. Detto questo, alla prossima!